Tu i miei ospiti della Cistaria, capito? È chiaro questo! Raccontiamo, diciamo, in dieci secondi tutta la vostra vita insieme, diamo un'occhiata alle ragazze e dopo averle viste, ci riuniamo! C'è nessuno! Saperò bene che tu sei un valventante! Quello che noi chiamiamo rosa, anche con un altro nome avrebbe lo stesso profumo! Sta per succedere qualcosa qua! Calmo contro calmo, è questo il bacio dei sangue! E i stati non hanno l'acqua? Sì, ma servono per fregare!